tutte le prime squadre a pigliare bastonate secondo allenamento e siamo parecchi e secondo allenamento siamo parecchi ma non li ho contati ma siamo parecchi 16 16 17 4 5 ne mancano che fanno il secondo turno di lavoro quindi saremo una ventina sicuri non male lì ne arrivano ancora tre non so se sono dei nostri ma sicuramente deve arrivare narda ancora dei nostri che lui finisce a chiudere l'agenzia alle otto e mezza c'è entusiasmo c'è entusiasmo antonio nostro collaboratore dirigente nostro dirigente accompagnatore i ragazzi siamo tanti e siamo parecchi di chassette oggi c'è veramente un grande spirito devo dire adesso hanno finito la partitella e fanno flessioni quindi c'è veramente grande voglia grande grande voglia da parte dei ragazzi mi piace questo gruppo mi sta gasando mi piace spero che adesso giovedì facciamo un amichevole contro una squadra di seconda categoria quindi superiore a noi che siamo di terza io spero che queste sensazioni belle positive le possa vedere anche in campo però guarda guarda mister li carica loro ridono scherzano ma fanno nel culo e quindi ottimo ottimo noi con le pettorine come una squadra serie coi palloni seri adesso non voglio dire ma lì c'è un'altra squadra di terza categoria che si allena per carità non voglio dire però vedete non c'hanno manco l'attrezzatura e invece qua siamo noi c'è un faro da aggiustare ma lo faremo aggiustare a quello del campo sensazioni molto molto positive siamo tutti tutti casati c'è antonio che adesso papà di narda il nostro difensore centrale che ci darà una mano bella storia mdn va alla grande